La data d'esordio del grande fratello è sempre più vicina e pian piano si va diradando la nube di fumo che ha avvolto sin cui volti dei prossimi concorrenti. In queste settimane si sono rincorsi tanti nomi e con l'avvicinarsi della prima puntata arrivano le prime ufficialità, secondo quanto riportato dal sito dei messageri. Infatti, almeno per quattro di questi ci sarebbe quasi la sicurezza della partecipazione ai due enti di Canale 100. Come è accaduto anche lo scorso anno la versione tradizionale Oni, sarà condotta da Barbara Guzzi, in realtà i nomi riguardano personaggi non propriamente nuovi al mondo della televisione. Molti di loro, infatti, per un motivo per molto sono stati ospiti nei salottimi televisivi proprio della conduttrice napoletana, il cast e il concorrent. C'è grande attesa per scoprire chi entrerà nella casa del grande fratello e sarà protagonista della sedicesima edizione del due enti più più lontano e con il cibo dei nostri concorrenti. Da finito circolano diversi numeri e con l'avvicinarsi della data e l'esordio prendono sempre più corpo alcune candidature. È ormai data quasi perfetta la presenza di Ivani Canale, la sorella del grande calciatore dell'anno. A dare ancora maggiore credito alla notizia anche nel titolo del settimanale Oggi che dava praticamente perfetta la sua presenza nella casa più schiata di Canale. Spesso la bella argentina è ospite di Barbara Guzzi per parlare e raccontare il rapporto con la sua famiglia e il fratello. Ormai da anni la bella Ivana non ha più rapporti con il calciatore e tanto meno con il rapporto. La colpa, ha detto di Ivana, sarebbe di Ivana Nara che avrebbe isolato il marito dall'intera famiglia. Spesso, come detto, ha parlato in un salottino di Canale 5 per chiedere al fratello un conflitto che non è mai arrivato. Staremo a vedere se nelle prossime settimane sarà confermata la presenza della giovane Carmi nella casa o se riuscirà a parlare o magari a chiarire con noi. Gli altri lunghi caudi sono quelli di Francesca D'Andrea, la nipote del fratello con tante Fabrizio. Francesca ha avuto una lunga relazione con Daniele Interrampi ed è stata spesso ospite dei programmi della conduttrice macolabina. Molto quotata anche la possibile partecipazione di Alberico. Il farmacista è conosciuto per le sue diete miracolose. Anche lui è spesso ospite di Barbara D'Urso per parlare con i suoi pazienti e, comprensibilmente, è sempre al centro del esistente del mondo. Secondo quanto ricordato dal sito di Davide Maggio, infine, la quarta concorrente che potrebbe entrare nella casa del grande fratello potrebbe essere Carillo, la mamma di Giulio Sano. Staremo a vedere se nelle prossime settimane vi darà un conferme per quanto crede.